Hello, bella gente e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Irene e oggi ci troviamo finalmente in un nuovo video sul mio canale. Oggi ragazzi siamo tornati in un nuovo vlog e andremo a fare un po' di shopping insieme, quindi adesso vi porto con me e niente, andiamo. Prima di fare qualsiasi cosa però è sempre bene spegnere le apparecchiature elettroniche e in caso di maltempo togliere anche le spine. Così almeno non si rischia di far prendere fuoco alla casa. Tra l'altro sto registrando in questi due giorni un sacco di video, quindi probabilmente per un po' di vlogmas mi vedrete vestita sempre uguale, però non vi preoccupate che sono tutti video per i registrati. E questo è quando ormai i corrieri di Amazon sono diventati i tuoi migliori amici. Comunque dobbiamo andare a fare un po' di spesa e un po' di compre generali, quindi andiamo. Comunque dobbiamo andare a fare un po' di spesa. Prossimo stop a cartolibreria per vedere se sono arrivati i libri di scuola, intanto io mi porto la busta. Che poi tra l'altro sto pure sghizzichando. Prossimo stop. e niente raga in cartelleria non abbiamo trovato niente condizioni appena tornata sotto tutto bagnata e niente quindi come avete ben potuto capire sono tornata a casa stava diluviando e quindi era un po tutta bagnata mi sono scioglata un po alla meglio e poi non mi sono persa d'animo e ho deciso di fare un dolce che in realtà ho già fatto un paio di volte però senza gocce di cioccolato invece questa volta ce l'ho aggiunte quindi niente vi lascio alla preparazione del dolce tra l'altro vedo pure la ricetta così se volete replicarlo lo potete fare e vi assicuro che è venuto molto molto bene infatti questo è il secondo dolce che faccio questa settimana uguale perché il primo è piaciuto talmente tanto che non è durato nemmeno un giorno il tempo di farlo ed era già finito quindi ok comunque nelle prossime clip non parlerò però appunto faremo questo dolce quindi vi lascio i timelapse e quindi e niente raga questo era quanto come avete visto ho fatto il dolce in realtà non ho fatto nemmeno la foto perché ce lo siamo mangiato di nuovo tutti e quindi non sono arrivata a fare la foto però vi assicuro che era appunto buonissimo quindi gg così e niente questa è stata la mia giornata questo vlog sarà molto breve però appunto uscendo un video al giorno non è che posso fare chissà che cosa di speciale anche perché prima come avete visto stava piovendo quindi non potevo riprendere più di tanto anche in mezzo alla strada poi considerate anche il fatto che avevo le buste in mano quindi era ancora più difficile e niente io spero comunque che questo video vi sia piaciuto e vi do appuntamento ai prossimi vlogmas che usciranno qua sul canale alle 18 e niente io intanto spero che questo video vi sia piaciuto se questo è stato di lasciare un bel pollice in su commentare iscrivervi al canale se ancora l'hai fatto e noi ci vediamo nei prossimi video nei prossimi giorni Bella ciao 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 ciao